Ed in tema di sanità sono 120 gli infermieri precari che da anni lavorano in Molise e che rimarrebbero fuori dal concorso per la stabilizzazione emanato dall'ASREM. La regione infatti non avrebbe le risorse necessarie. Resta aperta la partita della stabilizzazione degli infermieri. Al tavolo appositamente convocato dopo i due bandi pubblicati, la regione ha fatto sapere di non avere restanti 4 milioni di euro per la stabilizzazione di tutto il personale infermieristico. I soldi infatti sarebbero stati utilizzati per pagare prestazioni aggiuntive ai medici. Sono 296 precari tra infermieri e fisioterapisti che hanno lavorato già nelle strutture ospedaliere molisane per i primi posti da coprire in base al piano del fabbisogno. I bandi pubblicati sono per 280 infermieri, 140 con la mobilità extra regionale e 140 con i concorsi. Pertanto resterebbero fuori da qualsiasi ipotesi di stabilizzazione 120 infermieri precari che hanno lavorato già presso gli ospedali molisani. Al tavolo si è cercato di bloccare il ricorso al TAR presentato da questi ultimi contro il bando della mobilità esterna. Di coloro i quali infatti lavorano fuori regione vorrebbero farvi ritorno. Dinanzi al dato della mancanza dei 4 milioni di euro che erano stati promessi ma che sono stati girati per le prestazioni aggiuntive dei medici è nuovamente scoppiata la tensione, riaprendo di fatto una sorta di guerra tra poveri, tra infermieri precari interni all'ASREM e infermieri molisani esterni provenienti da altre realtà regionali. Ricordiamo ancora che la prova prevista è anche severa. Ben tre sono quelle da superare a cui dovranno sottoporsi infermieri e operatori che lavorano già da anni negli ospedali molisani.